Creare delle parentesi di normalità è la cosa più importante che i pazienti cercano. Hanno bisogno di essere visti, ascoltati, non trattati come una malattia che cammina, ma come persone. E questo è proprio l'obiettivo che abbiamo nel cuore e negli occhi quando facciamo queste iniziative. Il Parco Fest di Manerbi ha ospitato un nuovo appuntamento del progetto I Love Me. Per capire questo progetto c'è però da fare un salto indietro nel tempo. Tutto inizia nel 2013 quando mia mamma Marta si è ammalata di tumore e io sentendomi inutile ho iniziato a studiare, a cercare delle soluzioni per gestire e tamponare gli effetti collaterali che mi raccontava. E quando appunto è guarita ho deciso di licenziarmi, di dedicare la mia vita a questo creando la Marta Health Care. Marta proprio come il nome di mia mamma che rappresenta un po' il nome di tutte le mamme, fratelli, le sorelle, chi sta affrontando una malattia come il cancro. E quindi siamo qui per dare questa testimonianza e cercare di creare una cultura oncologica diffusa. Questo lo facciamo grazie a prodotti specializzati che gestiscono alcuni effetti collaterali delle terapie e anche con progetti in collaborazione con ospedali e farmacie del territorio. Un ringraziamento speciale va proprio alla farmacia comunale di Manerbio che ha accettato questa sfida e da anni si sta impegnando in prima linea, ha aperto le porte della sua farmacia per dare il supporto integrato ai pazienti, ha creato un corner oncologico e poi abbiamo iniziato un progetto all'interno della farmacia che poi si estenderà anche all'interno dell'ospedale di Manerbio, dove diamo un supporto informativo ai pazienti e abbiamo ricreato una vera e propria beauty spa per i pazienti all'interno proprio della farmacia. I Love Me è un progetto che è stato ideato nel 2018, volto a promuovere percorsi di estetica oncologica per le persone in cura prima, durante e dopo le terapie, secondo il metodo OTI. Un metodo, quest'ultimo, caratterizzato da trattamenti estetici sicuri per affrontare la patologia e i conseguenti effetti collaterali, che specialmente nel caso delle donne, inducono talvolta le pazienti a una progressiva perdita di riconoscimento della propria femminilità. Questo progetto che abbiamo iniziato l'anno scorso è inaugurato a novembre al Politeama di Manerbio con uno spettacolo meraviglioso e consiste nel supporto integrato al paziente oncologico. Questo vuol dire essere un punto di riferimento sul territorio, dove i pazienti, i familiari possono rivolgersi per avere qualsiasi tipo di informazione per effetti collaterali secondari delle terapie, per avere delle indicazioni per dover rivolgersi per eventuali supporti psicologici e anche per effetti collaterali a livello di ovviamente pelle e cutanei. Noi ci siamo specializzati, noi farmacisti con le corsie specifici sull'oncologia e l'estetista si è specializzata in estetica oncologica per offrire proprio questo servizio. La serata ha visto la partecipazione di artisti ginnaste di Altissima Nomea, rappresentanti dell'eccellenza italiana nel mondo in differenti discipline, che hanno incantato grandi e piccini con acrobazie circensi, esibizioni di ginnastica ritmica e danza, incorrigiate dalla musica live di un ensemble canoro accompagnato da diversi strumenti in un ritmo incalzante in grado di trasmettere energia pura, gioia di vivere e la consapevolezza dell'importanza, del contatto primordiale con la natura, fondamentale per riscoprire in noi le risorse preziose per affrontare i momenti più dolorosi. Praticamente portiamo in scena uno spettacolo per raccogliere dei fondi, per aiutare il reparto di oncologia di Manerbio, dando alle malate una coccola a livello di estetica, di cura del corpo e cerchiamo appunto di alleggerire già il cambiamento fisico che uno affronta durante le cure dovute purtroppo a questo brutto male e quindi questa iniziativa parte proprio per poterci finanziare questo progetto. Io sono direttrice artistica, sono ballerina professionista, in scena ci saranno artisti di altissimo calibro italiano ed internazionale, una band bravissima e quindi vi auguro di godervi lo spettacolo. L'evento, a ingresso libero, ha visto la raccolta fondi a sostegno dell'Associazione degli Amici Manerbio Oncologia Onlus Adamo per sostenere i progetti e le attività dell'Associazione a favore dei malati oncologici grazie all'acquisto di essenze floreali esposte sulla struttura linea dallo Spirito Green realizzata dal designer bresciano Giovanni Tomasili insieme ad Associazione Artigiani di Brescia e provincia.